Vicesindaco del Comune di Cermenate in provincia di Como Assessore del Comune di Cermenate per l'ambiente e la sicurezza in provincia di Como All'educazione e la cittadinanza nelle scuole ci mettiamo la firma Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità